Ecco, fratelli e sorelle, questa sera vorrei invitarvi ad entrare nel mondo della preghiera liturgica che può essere anche preghiera privata, noi abbiamo un bellissimo libro, il libro dei salmi, che è il libro della guarigione, cioè leggendo i salmi si guarisce. Bene, ci sono tanti mezzi spirituali dati da Dio per guarire uno di questi mezzi e la recita o il canto dei salmi si guarisce da tutte le malattie, soprattutto delle malattie interne, delle malattie spirituali, delle malattie psichiche e talvolta anche delle malattie fisiche, per quella forza interiore che si sprigiona dei salmi, i quali salmi contengono Cristo. Cristo è contenuto nei salmi, tutta la scrittura contiene Cristo, ma soprattutto sono i salmi che contengono Cristo. Ecco, qui si tratta di una lettura dei salmi che va fatta in chiave cristica, non soltanto in chiave letterale. Ed è opera dello Spirito Santo che a prescindere dalla comprensione o meno che noi abbiamo dei versetti del salmo, opera attraverso la recita del salmo dentro di noi per la presenza di Cristo in tutti i versetti del salmo. questa è l'esperienza che proviene da alcune scuole cristiane, rabbiniche, che ci dicono come ponte di guarigione. Siccome noi siamo in un servizio di guarigione dovremmo anche consigliare la recita del salmo. La recita dei salmi fatta con attenzione, fatta con quella riflessione necessaria nella luce dello Spirito in modo da assorbire parola per parola. Qui ho davanti il commento al primo salmo, piccolo di un libro. C'è questo autore che vive a Palermo nel cuore tedesco Rischitz, che appartiene alle lecate come nelle catecumenali, però ebreo, convertito, che sta facendo il commento a tutti i cinquanta salmi, per cui saranno centocinquanta volume. Comunque a noi non interessa e non potremmo mai seguire, perché secondo tutte le fonti ebraiche, patristiche, che egli si ferma ad ogni parola. Noi non ci possiamo fermare ad ogni parola, però vogliamo noi derivare i salmi, scrutare i salmi e soprattutto affezionarci i salmi, in modo da recitarli, da impararli a qualcuna memoria e di praticare i salmi, perché sono fonte di guarigione. Qui abbiamo la nostra sorella che è la salmista, noi la chiamiamo, perché il Signore le ha dato il dono di affezionarsi ai salmi e tanti di questi salmi sa a memoria, non soltanto, ma li propone, li recita con tanta unzione, per cui il cuore viene riempito di gioia e c'è una forma di guarigione interiore quando noi assorbiamo il senso del salmo e viviamo il salmo. I salmi vanno cantati, perché è nel canto che noi abbiamo una risonanza interiore, soprattutto vanno cantati quando si è insieme, allora acquistano una particolare efficace guaritrice, ma anche recitati o cantati da solo hanno un'efficace guaritrice tutti i salmi. Però ci sono alcuni salmi in cui c'è una forza di guarigione particolare e questo lo potremo vedere cammin facendo. Quello che voglio sottolineare è che i salmi contengono Cristo, dai salmi si sprigiona una forza arcana di guarigione e che bisogna prima approfondire il senso del salmo, poi imparare il salmo e poi al momento opportuno recitare con questa preparazione il salmo, quello che noi crediamo più opportuno nel momento spirituale in cui ci troviamo. Certo, tanto per fare una prima derivazione nel salmo 1, beato l'uomo, ecco, beato l'uomo, asrei, 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 alef, shim, rosh, er, i, asrei, beato. Viene notata che in questo salmo la prima lettera è Alef, sia in ebraico sia in greco è Alef. L'ultima parola si termina con il tau, con l'ultima parola omega. Ora Gesù dice, io sono l'alfa e l'omega, per cui già in questo salmo, primo salmo, c'è tutto il Cristo. L'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, Alef, omega e nel centro Cristo. Dobbiamo adesso leggere questo salmo, certamente non ci possiamo fermare sulle singole parole, però vogliamo dare un senso a questo salmo e poi ci fermeremo un poco sui salmi per poter così pregare, per il libro della preghiera ebraica, per il libro di preghiera di Gesù. Tutti gli ebrei recitavano i salmi, 150 salmi. Davide le compose circa un migliaio, ma non tutti sono qui raccolti, non tutti ci sono pervenuti. Era il grande cantore di Dio, cantava tutta la sua vita, ogni giorno componeva salmi. Pur nelle battaglie, pur nelle debolezze umane, egli rimaneva il cantore di Dio, la cetra di Dio, ed esprimeva nei salmi che cantava e suonava tutto il suo animo di giubilo, di tristezza, di pianto, di abbandono, per cui il grande cantore, il grande compositore dei salmi è Davide, figura di Cristo. Ma per non dare oltre vogliamo incominciare con la lettura del primo salmo. Diciamo subito che il primo salmo è congiunto con il secondo nell'antica liturgia ebraica. Tant'è vero che San Pietro, quando cita il salmo secondo, dice come detto nel primo salmo, perché i due salmi erano congiunti insieme. Siccome il salmo secondo che va a seguito al primo salmo, che forma un tutt'uno è un salmo nettamente messianico, e qualora che il Messia già si presenta nel primo salmo, ma come norma dobbiamo noi leggere i salmi, mettendo le parole che sono dei salmi in bocca al Messia, in tutte le circostanze in cui egli si trovava, e in cui noi possiamo ritrovarci. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, e non si siede nel consesso degli scarnitori, ma ha il suo diretto nella Torah di Avè, e nella sua Torah risuona giorno e notte. Egli è come un albero trapiantato lungo corsi di acqua, che dà il suo frutto al suo tempo, e le sue foglie non affasseranno, tutto ciò che fa riuscirà. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde, perciò non torgeranno gli empi nel giudizio, e i peccatori nell'assemblea dei giusti. Se Yahweh conosce la via dei giusti, la via degli empi si perderà. Guardate, in questo Salmo c'è una parola chiave, via. Ricordate quello che disse Gesù? Io sono la via. La verità è la vita, io sono la via. Nessuno viene al Padre se non per me. C'è la via dei peccatori e le vie dei giusti. La via è come la lama di un coltello. Al di qua c'è il mondo dei morti. Al di qua il mondo dei morti pure. Ma il mondo dei vivi è sulla lama del coltello. Di qua morte, di là morte. La via della vita è sulla lama del coltello. Bisogna camminare sulla lama del coltello. Se si va a destra o si va a sinistra, si cade nel baratro. Ricordate il testo di Isaia? I vostri orecchi ascolteranno la voce del Maestro. I vostri occhi lo vedranno. Egli vi dirà, questa è la via. Camminati in essa. Casomai andiata, a destra o a sinistra. Dunque, non a destra, non a sinistra. A destra c'è la morte, a sinistra c'è la morte. La via della vita è sulla lama del coltello. La via diritta, la via santa, per cui è entrato il giusto ed entrano i giusti. Comunque, su questa via che noi fermeremo l'attenzione è una parola chiave che ricorre spesso nella scrittura del Nuovo Testamento come nel Vecchio Testamento la via per gli antichi era molto importante. Non c'erano anticamente le strade come ora né autostrade né superstrada né strade asfaltate ma c'erano trazzere c'erano piste e soltanto chi sapeva la via poteva arrivare da un punto all'altro chi non sapeva la via si perdeva non c'erano indicazioni stradali per cui si cercava sempre qualcuno che conoscesse la via ricordate quando Tobia doveva andare a Ramses un paese lontano allora va in piazza e cerca qualcuno che conosca la via e si presentò così l'arcangelo Raffaele sotto la veste di un uomo a Zaria figlia del grande Anania e gli disse sì io conosco la via anzi io devo andare per quelle parti niente di più perché è meglio che aver trovato uno un uomo ragguardevole figlio del grande Anania che doveva andare pure per quella strada e conosceva bene la via per cui il vecchio Tobi benedisse il padre e l'angelo Raffaele che si prendeva cura di Tobia nel lungo viaggio dunque era importante conoscere la via chi non conosceva la via poteva anche perdersi ancora oggi quando si va nelle foreste quando si va nei territori di missione se non c'è colui che conosce la via nessuno può avventurarsi in una foresta in un luogo impervio ci vogliono colore che conoscono la via da noi non c'è questo pericolo perché Gesù è la via basta entrare in lui per camminare al sicuro però prima di arrivare a questa grande realtà ecco che nel vecchio testamento o anche nel nuovo testamento ci sono tante indicazioni la via anche Pietro nella seconda retta Giuda gli altri degli apostoli sempre parlano della via il cristianesimo viene chiamata via questa via la via della salvezza la via quelli che si trovano in questa via ossia da salvezza il cristianesimo viene chiamata via comunque ma andiamo per chi gradatamente vi ho detto che la parola chiave è via ma cominciamo con l'inizio beato beato l'uomo beato asher asher beato che non cammina nel consiglio degli empi dice tutto un un rosario camminare nel consiglio degli empi cioè stare con gli empi che significa camminare con gli empi non è semplice cammino ma essere nel consiglio degli empi essere con gli empi con coloro che non conoscono Dio con coloro che osteggiano Dio nessuna dimestichezza con coloro che sono contrari al Signore oggi noi viviamo in un mondo in cui ci sono gli empi però non possiamo partecipare al consiglio degli empi possiamo camminare con gli empi ma non entrare nel consiglio nella combriccola nella nella società degli empi non possiamo noi avere in comune nulla con gli empi e allora qui si dice beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi non cammina con gli uomini empi non fa società con loro non li pratica non sta con loro si cammina in questo mondo vive insieme con gli empi come il frumento che nel medesimo campo deve convivere con la gitania ma non abbiamo nulla che spartire con la gitania non abbiamo nulla che spartire con i peccatori questo è anche importante con noi perché chi bazzica con lo storfo incomincia a sofficare e chi tocca la pece dice la scrittura si impecia e diciamo noi in siciliano che il carbone si vince mascaria per cui praticando persone dubbie persone cattive persone che fanno del male li mascariamo va bene questo può succedere anche nel nostro gruppo si può essere uno che è carbone uno che è pece e allora praticando con questo su un tencino ne mascariamo qualche poco di pece la prendiamo ecco perché bisogna aprire gli occhi e non entrare nel consiglio degli empi nella combricola nella associazione nel manipolo nella così è in quel gruppetto che può sviare l'uomo giusto non si ferma nella via dei peccatori ecco qui non si ferma che significa fermarsi nella via dei peccatori c'è un'altra via la via dei peccatori la via degli empi e fermarsi nella via cioè noi possiamo camminare nella stessa via ma non soffermarsi nella stessa via dei peccatori e non si siede nel consesso degli schermitori cioè sedersi adagiarse nel consesso ossia nella seduta degli schermitori sono quattro versette che adesso cercheremo di sviluppare tanto per accennare un poco di un poco di lessico beato beato l'uomo che non cammina consiglio dei tempi i settanta traducono sulla cattedra dei pestiferi non si siede sulla cattedra dei pestiferi il targum recita felicità dell'uomo che non ha camminato nel consiglio degli empi e con la turba degli scernitori non si è seduto e questo fermarsi sedere il pescita cioè è una traduzione anticissima dice così nell'opinione dei peccatori non si è fermato e sul seggio degli scernitori non si è seduto la vecchia vulgata nostra la bibbia latina dice e sulla cattedra della pestilenza non si è seduto perché gli empi fanno pestilenza lasciamo stare poi tutti i testi ebraici il talmo il maldino eccetera tutti i padri della chiesa e commentano beato l'uomo che è quest'uomo l'uomo che è Cristo e in Cristo siamo tutti noi commentano il fatto di camminare fermarsi e sedere tre parole che sono importanti per noi noi possiamo camminare fermarci e sedere ma io mi fermo sempre a quella parola che questa sera vogliamo meditare ed è appunto questo cammino questa via il cristianesimo viene chiamato via non si ferma nella via dei peccatori nel vecchio testamento abbiamo queste citazioni l'esodo 13 dettonomio 11 30 dettonomio il salmo 25 il salmo 81 il salmo 119 il salmo 143 i proverbi 1 poi 4 poi geremia 21 sono tutti testi del vecchio testamento ma nel nuovo testamento ne abbiamo tanti per esempio pietro 2 15 pietro 2 21 gli atti 9 17 gli atti 18 24 prima i corinzi 4 17 secondo di pietro 2 2 matteo 7 13 giovanni 14 3 corinzi 12 31 ebrei 10 19 eccetera non seguiamo noi questa tutte queste citazioni ma vogliamo fermarci su questa parola fermarsi sedere e via via viato l'uomo che non si ferma non si ferma con i cattivi e non siede con i cattivi è un ammorimento per noi possiamo anche camminare per la nostra strada quando è comune ai buoni e ai cattivi ma non possiamo scegliere il cammino dei cattivi non possiamo seguire il cammino tracciato dai cattivi tantomeno possiamo fermarci con i cattivi o sedere con i cattivi perché chiede il Signore cammina per la strada del Signore non si ferma con gli empi che ignorano la Torah regge non siede con i malfattori e tu eri con lui tu eri con loro c'è scritto e tu eri con loro tante volte noi stiamo con i cattivi ci fermiamo con i cattivi entriamo nel consiglio dei cattivi frequentiamo il consesso dei cattivi dobbiamo fuggire dal consiglio dei cattivi dal consesso dei cattivi dove si trama contro Cristo e si trama contro Cristo quando si trama contro la verità oppure quando si trama contro il fratello nell'amore per cui evitare tutte le persone che non praticano la verità evitare tutte le persone che non praticano l'amore fraterno stare lontano dagli scarnitori dai malfattori dai menzogneri dai malvicenti dai sensiosi perché tutti questi non possederanno il regno di Dio è scritto che nessuno di questi erediterà il regno di Dio né gli idolatri né i sodomiti né i maldicenti sono messi insieme e erediteranno il regno di Dio per cui chi siede nel consesso dei maldicenti è come sussedesse con i sodomiti con gli idolatri ossia con quelli per i quali non c'è l'ingresso nel cielo e allora evitare il consiglio e il consesso delle persone che vanno lontane da Dio o dalla verità o dall'amore che portano fuori strada ci sono due vie ricordate il Deuteronomio Dio ha posto davanti all'uomo due vie la via del bene e la via del male la via della vita la via della morte tocca a te scegliere ma tu Israele hai scelto la via della vita e allora devi camminare in questa via della vita per noi cristiani già sappiamo qual è la via della vita ed è Cristo lui è la via però possiamo anche sbagliare e allora Gesù ci dice io sono la via e in questa via troviamo la verità e la vita bastano queste poche parole di introduzione perché adesso noi apriamo la discussione comunitaria per riflettere comunitariamente sulla parola di Dio dobbiamo abituarci a questo scambio di vedute sulla parola del Signore però col nuovo anno pensiamo di procedere in questa maniera che si dà la parola del Signore per esempio via si cita un testo si fissa una parola due parole per esempio in questo caso via e allora un gruppo di persone studierà la parola la approfondirà poi queste persone riferiranno all'assemblea e insieme si approfondirà questa parola per cui c'è un arricchimento vicendevole con l'aiuto di coloro che per una settimana hanno studiato su quella parola un anziano un giovane un uomo una donna una coppia insieme tre quattro cinque persone che approfondiscono la parola poi comunicano all'assemblea o al gruppo il frutto del loro studio e poi si condivide la parola insieme insieme in preghiera poi in riflessione in modo che ogni settimana ci si arricchisce nella parola di Dio si cresce nella parola di Dio e la parola di Dio circola mentre ci nutre ci guarisce dalle nostre interimità vorrei ripetere ancora questo concetto che la recita dei salmi o il canto dei salmi guarisce questa è un'esperienza delle scuole scuole rabbiniche scuole cristiane dove con la recita dei salmi si procura la guarigione degli ammalati e qui non sarebbe fuori luogo anche in mezzo a noi cantare un salmo particolare approfondire un salmo particolare perché si sprigiona una forza arcana una forza cristica che emane dei salmi e che guarisce le persone soprattutto guarisce dalle malattie spirituali dalle malattie psichiche e anche talvolta dalle malattie visiche io per questa mattina ho finito e adesso si apre la discussione voglio dire che io prima di fare parte di questo gruppo quando aprivo la Bibbia e mi veniva il libro dei salmi portavo pagina perché non mi piaceva e poi dal principio pagina 2 ho iniziato un posto di conoscenza dei salmi io ero presente lui ha illustrato ora mi ha fatto battere il cuore perché ha illustrato proprio il salmo numero 1 mentre lui parlava io mi sono sentita come fu adorata dalla parola di Dio mi batteva il cuore una gioia che mi è entrata che fosse mai bella ma con le mani prima non mi piaceva ecco la necessità di partecipare alle catechese il Signore può agire in qualunque momento nella maniera che noi meno ce lo aspettiamo quando sono uscita dalla riunione ho aperto la Bibbia ma è bellissima però le glorie le sprecciano che lo sentivo io l'indomani quando sono andata in chiesa e ho sentito il salmo responsoriale della messa anche quel salmo ha avuto una luce particolare ma che non l'avevo mai ascoltato il salmo della messa ma da allora è stata tutta un'altra cosa non conoscevo la preghiera della liturgia delle lodi il Signore me l'ha fatto conoscere me l'ha fatto gustare ecco tra le altre cose volevo dire questo io sono povera di parole e ringrazio tanto il Signore che mi ha accolato proprio di questa gioia un salmo che in questo momento mi viene e che mi pare che sia appropriato proprio per la nostra comunità sento che è il salmo 62 che è il salmo dei carismatici il salmo che amano molto il Signore e che nell'armione ci sprigiona la lode la potenza ecco il salmo dice così oh Dio tu sei il mio Dio dall'aurora di cerco di te assete l'anima mia a te brama la mia carne come terra deserta arida sensata ed ecco così nel santuario ti vado cercando vuol dire nella comunità ti vado cercando nei fratelli ti vado cercando per contemplare la Tua potenza e la Tua gloria vuol dire la Tua grazia vale più della mia vita le mie labbra diranno la Tua lode così ti benedirò finché io viva nel Tuo nome accerò le mie mani mi faccerò come all'autoconvito l'autoconvito della Tua parola Signore che è più dolce del miele di un favo stillante l'autoconvito della mente eucaristica del Tuo corpo del Tuo sangue della Tua anima che mi fa tutta una cosa con Te e allora a Te si stringe l'anima mia la porta della Tua destra mi sostiene io non poterò fare più timore non poterò vacillare perché sarò sempre con Te grazie ecco qui è la nostra termista se ci fosse qualcuno che si innamorasse di un salmo di due salme e di bevesse li digerisse e poi li esprimesse o col canto o con la declamazione aglieterebbe tutta l'assemblea e guarirebbe tante persone vediamo c'è una domanda ma nel paradiso le funzioni sono carismatiche o liturgiche c'è una domanda ignorante è una curiosità che so non a chi fare con la catechesi però ho questa curiosità c'è nel paradiso per esempio io amo le funzioni carismatiche però perdonate la mia ignoranza non ho questione per le animazioni liturgiche non ho questo trasporto guarda la liturgia cos'è la liturgia è la celebrazione nel mistero della salvezza sì nelle riunioni carismatiche si celebra la salvezza ma nella liturgia che si attua la salvezza per cui la salvezza nostra viene attuata nella liturgia dove è Cristo che vive per cui c'è da preferire sempre l'azione liturgica a qualsiasi altra azione perché l'azione di Cristo è della Chiesa sua mistica sposa è nostra madre per liturgia si intende qualunque azione liturgica in cui Cristo opera liturgia è la recita o il canto delriore liturgia è la serabesione della santa mesta liturgia è il sacramento della confessione della comunione liturgia e il sacramento del battesimo abbiamo tante celebrazioni liturgiche ma in tutte queste operazioni o azioni liturgiche c'è sempre Cristo che opera insieme con la sua sposa che la chiesa per cui è sempre da preferire in maniera assoluta l'azione liturgica a qualsiasi altra azione o privata o comunitaria o carismatico o non carismatica Cristo rientra anche nella nostra formazione che cosa succede tante persone vengono alla preghiera carismatica quando c'è poi la preghiera liturgica la Santa Messa se ne vanno scappano nel senso e mancanza di formazione perché la preghiera comunitaria quella carismatica prepara la liturgia nella liturgia quella parola si incarna e si da a noi nella comunione è un tutt'uno ora lasciamo la parte migliore noi andiamo al pranzo ci nutriamo del così degli antipasti oppure delle dei preparativi dei pizzichini quando poi incomincia il primo piatto ce ne andiamo e perdiamo il pranzo così tanti di noi si nutrono degli stuzzichini stuzzichini al massimo qualche antipastino e poi se ne vanno e così restano affamati non si nutrono non si nutrono della parola che viene proclamata nella liturgia e della parola che si fa carne e diventa cibo per noi ecco io voglio dire questo testimonianza della parola e dell'aiuto che viene dai salmi il primo salmo che io ho imparato a memoria e che mi ha dato molto perché nei momenti così di distraggiamento nei momenti di debolezza nei momenti di paura così mi veniva in mente sempre questo salmo ed è il 23 il Signore è il mio pastore non manco di lui 22 23 22 23 ma questo salmo per me è stata la mia fortessa perché mi ha dato coraggio e forza sempre dovete fare il proposito di scegliere un salmo o io se scelgo un salmo quello che più piace lo impara a memoria e lo di scegliere il salmo più occulto quello che è stato il versetto allora a proposito di salmi durante l'effusione io ho recitato un salmo il salmo 138 che sto a memoria e poi ne so il Signore mi ha dato la forza seppure in cattiva salute di imparare a memoria diversi salmi ora io le chiedo padre molto spesso mi accade di pregare con i salmi e tralasciando il rosario è giusto questo fatto perché io mi simprovero questo fatto fare l'uno e l'altro fallo pure però come diciamo preferenza è chiaro che il salmo contiene la parola di Dio però siccome c'è una devozione importante e nel nel rosario noi meditiamo tutto il mistero dall'incarnazione passione e glorificazione del Signore certo comunque perché ma puoi variare ma puoi variare oggi ti dice salmi domani ti dice rosario o poi ti dice una porta del rosario e poi ti dice salmi non farti scrupolo di questo mi scuso padrone Matteo e io se forse nei salmi ci sono cose imprecatorie non le continuo cosa facciano i salmi imprecatorie imprecatorie passa avanti uno legge ci sono alcuni salmi imprecatorie c'è un tremendo salmo imprecatorio che viene citato da San Pietro a proposito di Giuda ma sono salmi terribili in cui si impreca contro coloro che vanno contro Dio e l'ira di Dio che si manifesta in quei salmi anche ci sono alcuni salmi che noi recitiamo ma che la parte imprecatoria viene omessa per esempio uno dei ritornelli che ritorna è questa beato chi sfracella i tuoi bimbi alla pietra e li sgozza ecco qua poi c'è il salmo contro Giuda noi siamo imprecatori tremendi e salmo 109 vedete cosa dice Dio della mia lode non tacere poiché contro di me si sono aperte la bocca del lente dell'uomo di frote parlano di me con lingue di menzogne quando uno si vuole sfogare è giù salmo quanto a Dio ecco mi mi investono con parole di odio mi combattono senza motivo in cambio del mio amore mi muovono accuse mentre io sono in preghiera mi rendono male per bene e odio in cambio di amore suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra citato in giudizio risulti colpevole e il suo appello si risolve in condanna poiché pochi siano i suoi giorni e il suo posto lo occupa un altro nel testo citato da San Pietro contro Giuda i suoi figli rimangono orfani e vedo la sua moglie vadano raminghi i suoi figli mendicando siano espulsi dalla loro casa in rovina l'usuraio divori tutti i suoi averi e gli strani gli facciano preda del suo lavoro nessuno gli usa misericordia nessuno abbia pietà dei suoi orfani la sua discendenza sia votata allo sterminio nella generazione che segue sia cancellato il suo nome l'iniquità dei suoi padri sia ricordata al Signore il peccato di sua madre non sia mai cancellato sia davanti al Signore sempre ed egli risperda dalla terra il loro ricordo rovina perché ha rifiutato di usare misericordia ecco qua contro quelli che non usano misericordia e ha perseguitato il misero e l'indigente per fare morire chi ha franto di cuore ha amato la maledizione e bene ricadaci di lui non ha valuta la benedizione e bene da lui si allontani si è avvolta di maledizione come di un mantello e penetrata come acqua nel suo intimo e come ori nelle fiozza si è per lui come vestito che lo avvolge come cintura che sembra le cinghie ecco la sorta di colore che scelgono il male sia questa la parte del Signore la ricompensa per chi mi accusa perché dice male contro la mia vita ma tu Signore mio Dio agisci con me secondo il tuo nome salvami io sono povero e infelice il mio cuore è ferito nell'intimo scompaia come l'ombra che declina sono sbattuto come un'acusta le mie ginocchia vacillano per il digiuno il mio corpo escarne ne parisce sono diventato un oggetto di schermo quando mi vedono scuotano il capo aiutami Signore mio Dio salvami per il tuo amore sappiano che qui c'è la tua mano tu Signore tu hai fatto questo maledicono esse ma tu benedicimi mi insorgono pure esse e arrossiscono ma il mio tuo servo sia nella gioia sia coperto di insamia che mi accusa sia a volte di vergogna come di un mantello altra risuoni sulle mie labbra l'anore del Signore io esalterò in una grande assemblea perché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudizi della tua vita ecco il povero ecco che reclama a Dio c'è un testo che dice state attenti a non mele dire il povero perché se ti maledice io lo ascolterò se tu fai delle angaria a un povero a un infelice a un poveretto se quello ti maledice perché non è più dopo più io lo ascolterò per cui la maledizione cade perché Dio ascolta il grigio del povero mi sembra che ricorrono spesso delle frasi tipo Dio odia gli enti ama i giusti e Dio annienterà gli enti e invece aiuterà i giusti però di fatto le cose non stanno così nel senso che anche i giusti hanno i loro di grazia e i loro costi allora volevo chiedere in che senso bisogna intendere queste frasi e poi un'altra domanda se Dio interviene la nostra vita in che senso interviene e fino a che punto qui bisogna mettersi nelle mani cioè nella mente nel cuore del cantore del cantore del cantore il quale rivesta la figura di Cristo rivesta la figura di chi ho preso e allora parla a nome di Dio e bisogna entrare nella mentalità del tempo e cogliere quello che c'è di vero è chiaro che le nostre orecchie sono male alcune frasi dobbiamo pur capire che nel nuovo testamento Gesù ha condotto con il perdono dei nemici condotto a compimento la legge però da parte di Dio che è sempre il castivo degli empi non bisogna fare di Dio un Dio a modo nostro nel Vangelo c'è il bene e il male quel Dio che dice venite voi tutti a me che siete affaticati e stanchi per te se Gesù dice andate via maledessi nel fuoco eterno quel Dio che dice misericordia voi e non sacrificio quando parla ai farisei che negano la verità dice male fariseo cieco fariseo dannato razza di vipere volpi chi vi salverà nel giorno di Dio è chiaro che il Signore sempre lanciando queste frasi vuole richiamare dalla via della perdizione però queste frasi lanciate con viemenza esprimono tutto lo degno di Dio perché fa il male per indurre i buoni ad avere così il ribrezzo del male e a camminare nelle vie del vento poi la retribuzione la retribuzione degli antichi era in questo mondo per i cristiani si è aperta una retribuzione anche nell'altro mondo per cui è diversa la prospettiva del vecchio testamento e quella del nuovo testamento dovuta alla numerazione ebraica e alla numerazione diciamo greca o latina siccome c'è un salmo che è diviso in due e allora la numerazione fino a un certo punto è uguale arrivato a un certo punto e allora si divide perché il salmo è diviso in due e poi si ricongiunge verso l'ultimo ecco perché i salmi che stanno a metà sono sempre doppie tra parentesi c'è la versione la numerazione antica mentre così senza il parentese c'è numerazione nuova bisogna ricordare che nella liturgia la numerazione è quella tra parentesi nella liturgia qui invece la numerazione che noi reggiamo è quella fuori parentesi un po' di paese soprattutto dei miei colleghi perché io spesso e volentieri in qualsiasi cosa si dica o in qualsiasi progetto si pensi di attuare metto sempre la volontà del Signore se il Signore vuole se il Signore vorrà mentre loro così bertandomi un poco mi dicono che c'entra il Signore in queste questuglie il Signore si occuperà in cose più grandi io la mia esperienza anche misera però ho notato che il Signore si è occupato delle mie cose piccolissime come delle mie cose grandi per cui basta dargliele basta avere cercare il suo consenso nell'attuare via tutte le cose che lui agisce almeno la mia esperienza è questa lei che non se ne pensa dice il Signore in Giacomo e ora voi che dite oggi o domani andremo nella tangità e ripasseremo un anno e faremo affari e guadagni mentre non sapete cosa sarà domani ma che mai la vostra vita siete come vapore che appare per un istante e poi scompare dovreste dire piuttosto così che il Signore vorrà vivremo e faremo questo e quello ora invece voi inventate e con arroganza dite faccio questo faccio quest'altro mentre dovete dire che il Signore piacerà farò questo ecco questa è una risposta che sa Giacomo se il Signore vuole sempre mettere se il Signore vuole a Dio piacendo perché non è in potere dell'uomo l'uomo propone e Dio dispone Giacomo 4 4 5 va bene appreso di Caino e Abele in cui che Abele era buono verso il Signore e Caino non era buono e ho letto che poi Caino l'ha ucciso Abele e mi ha colpito molto questa parola e cerco di mettere in atto perché mi ha fatto veramente molto quando Gesù dice nella Bibbia che nessuno condanne a Caino perché giudizio rimane a me e vengo la parola della sorella che dice il sano improdatore passa avanti perché ecco se noi dobbiamo dare giudizio a Dio che cosa imporiamo il Signore di cattive cose dobbiamo essere sempre a dire Gesù tu sei grande abbi pietà di loro e di noi pure e questo è tutto dobbiamo pregare per questa sorella che ha un marito con i fiocchi dobbiamo pregare per questa sorella che ha un marito con i fiocchi bene noi diciamo che non bisogna giudicare nessuno quando giudichiamo non giudichiamo la persona giudizia di Dio ma l'azione sì non possiamo dire questa è una cosa buona questa è una cosa cattiva quando è una buona non è cattiva bisogna dire pane al pane vino al vino salva sempre l'intenzione e salva il giudizio ultimo di Dio va bene così noi conserviamo la carità conserviamo il posto a Dio ma anche siamo non è la verità non è la verità salvo ai miei amore il mio non è la verità non è la verità l'intenzione di Dio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.